signori buongiorno e buona pasqua e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale abbiamo già ripetuto un sacco di volte che la funzione principale del mondo di gioco è quella di fare da sfondo all'avventura dei personaggi bisogna però dire che anche un'altra funzione cioè quella di essere molto spesso il motore delle avventure per quei personaggi se il mondo non rischiasse di venire distrutto i supereroi non dovrebbero andare a salvarlo se i pirati spendessero il loro tesoro nessuno dovrebbe andare a cercarlo e di seppellirlo un mondo di gioco è valido e utile solo se al suo interno è possibile realizzare le avventure che i giocatori comunque il tavolo ritengono siano avventure ed eventi interessanti da vivere questo tipo di costruzione nel mondo di gioco è normalmente chiamata adventure friendly o se volete in italiano favorevole per le avventure nel video di questa settimana andremo proprio a vedere perché un mondo debba essere favorevole alle avventure e come fare a realizzarne uno senza stare a perdere troppo tempo in chiacchiere un mondo di gioco è valido solo se al suo interno gli avventurieri possono ragionevolmente coerentemente intraprendere situazioni avventure quello che volete che siano per loro interessanti cosa possa ritenersi per interessante dipende in linea di massima dal tavolo ma diciamo nello specifico dal gioco dal regolamento che state utilizzando e quale siano i temi presenti in quel regolamento un mondo di gioco in cui possiate creare delle avventure interessanti per un investigativo orrorifico l'overcraftiano in cui i personaggi devono investigare su misteri da oltre lo spazio e su cose che l'umanità non dovrebbe nemmeno immaginare difficilmente sarà valido se poi l'avventura che ci realizzate dentro riguarderà un gruppo di ragazzini che devono avere riflessioni introspettive sui problemi che hanno affrontando la vita del liceo a meno che voi non stiate puntando a portare in tavola una commedia nera e anche molto corta ma perché il mondo di gioco sia efficace per il tipo di narrazione che è prevista svolgersi al suo interno deve essere costruito in modo che non vada mai a infrangersi il principio della sospensione dell'incredulità ne abbiamo già parlato in un vecchio video ma il mondo deve essere progettato in modo che quello che i giocatori vogliano fare non solo sia coerente con il mondo come presentato ma anche che siano incoraggiati a comportarsi proprio in quel modo lo so che detta così apparentemente sembra una cosa di molto complesso non dico che sia semplicissimo ma con un minimo di sforzo un minimo di ragionamento in realtà non credo vada al di là della portata di qualunque master per quanto mediocre come si crea quindi un mondo adventure friendly semplicemente procedete al contrario invece di inserire degli elementi nel vostro mondo e vedere dove vi portano partite dagli effetti che questi elementi avrebbero dovuto avere e poi ragionando al contrario andate a inserire delle cause che coerentemente possano aver portato a quella situazione facciamo un esempio concreto diciamo che volete fare una campagna fantasy basata sull'esplorazione di antichi dungeon questa è probabilmente la quest di dnd più normale che possiate fare perché ricordatevi che banale e bello bene l'effetto quindi che voi volete ottenere è che nel vostro mondo di gioco ci siano molti antichi dungeon e che gli avventurieri siano spinti ad andarli a esplorare se questi dungeon sono antichi vuol dire che sono stati costruiti molto tempo fa e se devono essere andati a esplorare probabilmente sono caduti in disuso sono stati abbandonati se no non sarebbero da esplorare sarebbero abitati quindi dobbiamo trovare un motivo perché nel mondo ci siano molte antiche strutture molto ampie imponenti ma che non sono più utilizzate da chi le ha costruite originalmente se il motivo per cui fossero stati abbandonati fosse semplicemente per obsolescenza o perché è cambiato il paradigma culturale e quel tipo di strutture non va più di moda non sarebbe probabilmente una motivazione utile perché a quel punto non sarebbero antichi dungeon misteriosi da esplorare sarebbero semplicemente vecchie strutture faticenti in cui semplicemente nessuno vuole più andare noi invece vogliamo che i nostri dungeon siano misteriosi e probabilmente ancora pieni di tesori che i giocatori possano prendere quindi diciamo che i dungeon furono costruiti da un'antica civiltà e poi questa civiltà è scomparsa lasciando dietro di sé come testimonianza solo le sue strutture più imponenti quello che è successo a tantissimi popoli dell'età del bronzo dei quello che gli egizi avevano costruito a noi rimangono solamente alcuni enormi complessi tombali ma le strutture minori sono andate scomparse a questo punto però ci serve sapere perché questa civiltà un tempo così potente è andata scomparsa hanno avuto un collasso economico sono stati invasi da popoli barbari sì questo è successo più volte nella storia ma nel nostro caso non è utile perché in entrambi i casi le risorse all'interno del dungeon sarebbero state le prime cose a essere saccheggiate e quindi non ci sarebbe più niente all'interno di questi dungeon per gli avventurieri da andare a prendere quindi no un'altra spiegazione sarebbe migliore diciamo quindi che il motivo per cui improvvisamente questi dungeon sono praticamente rimasti congelati nel tempo senza i loro abitanti e che la civiltà è stata colpita da qualche genere di catastrofe repentina che può essere naturale può essere un disastro magico non è interessante quello che interessa a noi è che sia stato un evento improvviso e che quindi tutto ciò che una volta era nei dungeon è fondamentalmente rimasto lì ed è poi stato sigillato dal tempo man mano che i detriti si accumulavano e i dungeon venivano sommersi a questo punto nella nostra ambientazione è perfettamente nazionale che ci siano grandi strutture sotterranee piene di tesori appartenenti a un popolo di cui si conosce molto poco ovviamente questo vi potrà aiutare moltissimo anche con il war building degli elementi accessori della quest abbiamo un dungeon di un'antica civiltà una volta potente ok allora bisognerà sviluppare questi dettagli e perché quella città era potente come si comportavano gli abitanti di quella civiltà e queste informazioni potrebbero venire fornite ai giocatori tramite meravigliosi affreschi che rappresentano le glorie della civiltà scomparsa sulle pareti del dungeon magari sulle pareti ci sono anche delle incisioni con dei geroglifici adesso incomprensibili e questi geroglifici in realtà però potrebbero comprendere sia testi di conoscenze arcane oramai andate perdute ma potrebbero contenere anche degli avvertimenti in cui la civiltà ha cercato di avvertire quelli che sarebbero venuti dopo di lei su che cosa sia successo quale sia stata la catastrofe magica e come effettivamente fare per evitarla oramai nessuno è più in grado di leggere quali siano questi geroglifici però alcuni studiosi stanno cercando a ricostruire la lingua e una volta che si sono resi conto che potrebbero contenere delle informazioni veramente importanti a questo punto il gioco è fatto perché gli avventurieri andranno nel dungeon sia per accumulare ricchezze e tesori per loro ma anche per recuperare questi assolutamente fondamentali e incalcolabili frammenti di conoscenza perduta da questo punto di vista mandare persone a esplorare i dungeon per quanto possa essere pericoloso è in realtà la cosa più razionale da fare se è possibile che il mondo subisca una nuova catastrofe e da qualche parte all'interno di quei dungeon c'è la risposta per non farlo accadere sì è perfettamente razionale rischiare la vita di qualche avventuriero per salvare potenzialmente la vita di tutti gli altri anzi qualunque altro comportamento sarebbe logico sarebbe non logico e non verosimile all'interno dell'ambientazione in più questi dungeon sono vecchi di secoli se non di millenni quindi molti saranno già stati saccheggiati o comunque altri saranno smossi sono andati distrutti le intemperie avranno fatto delle stragi di conseguenza la cosa più probabile che i dungeon più intatti siano quelli che erano imposti incredibilmente difficili da raggiungere o al cui interno si siano poi andati a trasferire i mostri più potenti e pericolosi e di conseguenza abbiano tenuto lontano chiunque altro a questo punto è perfettamente razionale che i dungeon di livello più alto abbiano al loro interno le cose più interessanti e i dungeon di livello più basso siano relativamente più vuoti e con meno cose al loro interno l'intero impianto dell'ambientazione adesso è fatto c'è un motivo perfettamente razionale per cui gli avventurieri vadano nei dungeon c'è un motivo perfettamente razionale per cui gli avventurieri debbano fare dungeon progressivamente sempre più difficili il gameplay previsto per la vostra avventura fantasy in cui si esplorano i dungeon è perfettamente giustificato dall'ambientazione che è stata scritta per quella campagna parlando in maniera più generale le motivazioni che rendono un mondo di gioco un'ambientazione adventure friendly ricadono in due grosse macro categorie quelle funzionali e quelle culturali le motivazioni funzionali sono quelle che riguardano quello che abbiamo definito il sistema magico del mondo vi lascio qua il video se dovete andarlo a rivedere diciamo che in quel mondo esiste un qualche tipo di elemento fittizio o situazione fittizia che rende qualcosa che nel mondo reale è impossibile o improbabile in realtà lì perfettamente normale e questo può portare a far diventare perfettamente giustificabili delle cose che in realtà non lo sono e magari inserire altre limitazioni che nel nostro mondo non abbiamo la nostra galassia è così vasta e luoghi sono così lontani tra di loro che viaggiare da un pianeta all'altro è qualcosa che richiede secoli e millenni e qualsiasi concetto di dominio territoriale o contesa per le risorse è vagamente priva di senso perché anche ammettendo che esistano popoli alieni i pianeti sarebbero così distanti e così circondati da spazi vuoti pieni di risorse che qualsiasi tipo di conflitto per questo non avrebbe praticamente senso ma diciamo che nel nostro universo è stato trovato un modo per viaggiare più veloce della luce ma questi viaggi sono possibili solo da e verso posizioni molto specifiche all'interno della galassia a quel punto diventerebbe perfettamente normale che sia i viaggi siano molto più veloci di quelli nella realtà sia che queste zone siano rare estremamente preziose e che quindi possano nascere delle guerre per il controllo di questi punti in cui è possibile saltare nel lipaspazio le motivazioni culturali invece non riguardano tanto il mondo e il suo funzionamento ma come questo mondo viene percepito dagli abitanti che lo popolano qual è la loro cultura morale etica e come la teoria differisce dalla pratica perché non necessariamente nel vostro mondo la gente deve fare sempre la cosa più logica e non necessariamente tutti fanno quello che dovrebbero fare è una cosa che vale anche per il nostro mondo può valere anche per un mondo inventato perché devono essere i supereroi a combattere il crimine e non lo fanno le forze di polizia perché le forze di polizia sono corrotte o sono talmente poco sovvenzionate non avere i mezzi per rispondere a tutti i criminali o magari i criminali hanno superpoteri che la polizia non può non vuole affrontare perché gli avventurieri devono rischiare l'osso al collo per recuperare l'oggetto in fondo al dungeon se poi questo oggetto non è magico non è particolarmente di valore in realtà serve solo a giustificare la loro avventura perché quell'oggetto in realtà ha un enorme valore culturale e il re vuole che venga recuperato perché se lo espone nella sua corte lui ne avrebbe una grande rilevanza politica rispetto ai re degli altri regni potenzialmente qualsiasi comportamento che potrebbe sembrare palesemente insensato può essere giustificato dal fatto che semplicemente la gente abbia dei motivi per cui non vuole intraprendere il comportamento più sensato perché in Pathfinder esistono le armi da fuoco ma c'è ancora gente che combatte con spada e scudo perché le armi da fuoco sono poco affidabili e il combattimento con spada e scudo in realtà è visto come quello più onorevole legato all'antica tradizione a differenza delle armi da fuoco sono qualcosa di nuovo di moderno a signora mia di questi tempi e quindi un sacco di gente semplicemente si rifiuta di usarle nonostante siamo più efficaci diciamo che per questo video è tutto se vogliamo fare un riassunto il concetto importante è quello che non esiste un mondo di gioco corretto ma che con un minimo sforzo voi possiate rendere corretto qualunque sia il tipo di gioco che voi e il vostro tavolo ritenete quello che sia più divertente più interessante più di intrattenimento fondamentalmente prima decidete che cos'è che vi piace fare al tavolo e poi create un mondo che vi permetta di fare principalmente quello con i vostri giocatori diciamo che per oggi finisco qui sono già andato lungo settimana prossima ritorneremo a parlare per il D20 System della grande ruota fino a quel momento come sempre se avete domande, dubbi, perplessità scriveteli un commento qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il Master Kai noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao